Abbiamo detto all'inizio del nostro programma, lo stiamo dicendo ormai da diversi giorni, ci siamo preparati anche con un mese intero di preghiera alla giornata mondiale della gioventù, che questo evento ormai vicino si sta davvero avvicinando per certi versi molto velocemente. Il primo agosto, il 6 agosto, le date indicate per l'evento di Lisbona, che vedrà anche la presenza di Papa Francesco, abbiamo raccontato della preparazione dei giovani pugliesi e non solo a questo evento. Stamattina, come dicevo, volevamo aprire una finestra relativa alla preparazione che i giovani francescani d'Italia stanno intraprendendo verso questo evento così importante di Lisbona. E per questo motivo voglio dare il benvenuto a Domenico Russo, consigliere nazionale della gioventù francescana italiana. Buongiorno, ciao Domenico, bentrovato. Buongiorno, ciao a tutti, grazie. Grazie per essere con noi. Allora, Domenico, la gioventù francescana italiana, ma non solo, si sta preparando in maniera importante a questo evento di Lisbona, sarà presente come lo è stata anche alle altre giornate mondiali della gioventù. Ecco, ti chiederei un po' di raccontarci quali sono le sensazioni, le emozioni, ma anche il percorso di avvicinamento che state facendo verso questa tappa importante. Sì, allora, partendo dal fatto che le emozioni sono tante e anche contrastanti tra di loro, io personalmente mi sto preparando con una bella dose di preghiera. Più avvicinandosi all'evento, cerco di ritagliarmi del tempo per dedicarmi a questa cosa, che è una cosa molto grande che non ho idea di cosa sia, però sarà bello essere lì con tanti giovani, con tante persone anche che ci vedranno per strada e in un ambiente molto ricco, anche molto caldo, dato il periodo. Però sarà bello essere lì, sarà bello stare insieme a persone di altre nazioni che però credono nella stessa cosa e quindi sono lì per lo stesso motivo. Ed è un incontro che non capita sempre, forse è uno o due volte nella vita. Allora, Domenico, la Gifra sta facendo sia a livello nazionale che anche attraverso poi le diverse fraternità presenti nelle varie località italiane, come dicevo, un cammino importante appunto di preparazione a questo evento. Vuoi raccontarci un po' in cosa è consistita tutta questa preparazione? Sì, allora, come gioventù francescana un po' l'obiettivo che si era dato per questa giornata dei giovani era quello di viverla con la Chiesa, proprio in comunità con la Chiesa, proprio per l'obiettivo di questo evento e quindi ci siamo un po' affidati ai percorsi nelle diocesi. Ognuno di noi cammina con la propria Chiesa e con la propria diocesi, quindi vive in momenti di preghiera, vive tutto quello che la propria diocesi propone e si affida ad essa. Questa perché la nostra prima identità, prima che Gifrini, prima che Francescani, è l'essere cristiana e quindi l'essere nella Chiesa. E quindi questa cosa ci sembrava giusto e anche doveroso verso la madre Chiesa, in un certo senso. E poi c'è anche la preparazione all'interno di ciascuna fraternità. Ovviamente presumiamo che non tutte parteciperanno per ovvi motivi a questo evento, però sappiamo che, anche leggendo le notizie sui social, i vari profili, comunque le condivisioni che avvengono, che ogni fraternità ha fatto un cammino. Un cammino che è di preparazione, perché comunque non si va alla GMG per fare semplicemente una gita, anche se il Portogallo è bellissimo da vedere, ma si va anche per dei motivi specifici, ovviamente. Sì, 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 sì. Noi come fraternità abbiamo vissuto durante quest'anno degli incontri in preparazione proprio a questo viaggio, come dicevi, che non è una gita, ma è più un voler incontrare e incontrarsi alla luce di Cristo. E in questi incontri c'è stato un po' parlato della tematica del viaggio, del lasciarsi andare, dell'andare oltre, quindi tutte cose che sono alla base di quel bagaglio che porteremo lì. Quindi il percorso è stato intenso quest'anno, all'interno comunque di tanti contesti, di tante altre cose che abbiamo vissuto, però c'è stata un'attenzione particolare a quello che era il viaggio. E sì, è stata una cosa diversa, diversa che abbiamo affrontato anche con una maturità increscendo dall'inizio fino alla fine. Senti Domenico, io di solito quando faccio delle interviste, comunque delle chiacchierate con persone che parteciperanno, che hanno partecipato alle Gmg, chiedo sempre cosa hanno portato nello zaino e magari cosa porteranno. La stessa domanda la voglio fare a te, in maniera tale che tu possa anche in qualche maniera, vista anche comunque la tua esperienza all'interno della gioventù francescana, aiutare chi magari, anche solo idealmente, vuole partecipare a questo momento. cosa portare sia nel bagaglio, ma anche in uno zaino ideale, diciamo così. Ok, e intendi nel pratico? Nel pratico, ma anche ovviamente dando dei consigli. Allora sì, diciamo il bagaglio è sicuramente una cosa con cui ci si scontra quando si affronta un viaggio, perché è una cosa difficile da preparare, pensando un po' a quello che verrà, però sì, banalmente nel bagaglio ci si limita un po' all'essenziale, ma non troppo, cioè qualche cosa nel pratico, direi non caricarsi troppo di tante cose che poi magari uno porta in vacanza, però quella lì è un'esperienza diversa, quindi l'essenziale, ad esempio pochi panni, però anche qualcosa per la farli, quindi grazie a quello, oppure un materassino, un saccappello che però ingombri poco. E invece nel bagaglio del cuore che cosa bisogna portare? Sicuramente tanta pazienza e anche spirito di adattamento, perché sarà un'esperienza molto frenetica e molto anche ai limiti di quello che uno si aspetta, quindi molto adattamento, molto spirito di fraternità anche nello stare insieme e poi sicuramente essere predisposti a vivere un'esperienza che in un certo senso cambia, può cambiare veramente il percorso, non la vita radicalmente, però magari il modo di vedere alcune cose, il modo di approcciarsi anche all'altro è una cosa che io nel bagaglio mi porto come intenzione, semplicemente. Allora Domenico, io ti ringrazio per essere stato con noi, abbiamo fatto questa breve chiacchierata per anche scoprire un po' come si sta preparando la gioventù francescana, ma direi più in generale un gifrino a questo evento così bello, così importante che vi vedrà nonostante tutto anche protagonisti tra le centinaia di migliaia di persone che parteciperanno appunto all'evento. Ti ringrazio e ti auguro una buona GMG e un buon cammino. Grazie, ciao Domenico.